Musica Oggi è martedì 30 gennaio e questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 in onda, in diretta, su tutta la regione Marche, su YouTube e su Facebook. Un cordiale saluto dalla redazione, ben ritrovati cari telespettatori, siamo ormai giunti al termine di questo mese, siamo nel pieno e nel vivo del carnevale, vediamo subito il santo del giorno e poi che cosa scrivono i giornali questa mattina. Partiamo dal santo, oggi la chiesa cattolica ricorda Santa Giacinta Marescotti, è stata una religiosa che è morta a Viterbo nel 1640. Il sole è sorto alle 7.26, tramonterà alle 17.16 minuti, oggi il tempo sarà parzialmente nuvoloso con temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Se state uscendo a quest'ora del mattino alle 7.30 sappiate che c'è ancora nebbia, foschie, ci sono foschie lungo la costa, ci sono foschie locali con anche nebbia in alcuni tratti densa. Al primo mattino anche, in particolare lungo la costa, centro meridionale, per la giornata di domani avremo mercoledì dunque 31 di gennaio, avremo vento, vento che soffierà con raffiche fino a burrasca nelle zone alto, collinare e montane. Temperature in lieve diminuzione la notte, attenzione ancora domani alle foschie e ai banchi di nebbia nelle prime ore della giornata. Per quanto riguarda il primo di febbraio, il primo di febbraio avremo delle precipitazioni al pomeriggio, soprattutto nelle zone interne, le temperature sono in aumento, c'è ancora vento, vento fresco con raffiche fino a burrasca forte o addirittura tempesta nelle zone dell'entroterra, mentre arriverà aria artica nei prossimi giorni. Allora, cominciamo a leggere i quotidiani, cominciamo a leggere i giornali e partiamo dal Corriere Adriatico. Liste e candidati, la corsa per Roma, presentati tutti i nomi per le elezioni del 4 marzo. PD e centrodestra provano a respingere l'ondata Movimento 5 Stelle, Fabri accetta, sollievo quindi tra i democratici, sono 21 le liste, al Gong, 21 liste presentate. La PD Fabri accetta Fano dopo le litideme, le purazioni di Ceroni tra i forzisti, un'occasione storica per i grillini. La pagina di Fano però, il tema sulle pagine di Fano riguarda il Carnevale, Carnevale con tanto di polemiche, Carnevale adesso si pensa ad allungare il percorso e una nuova location per il futuro. Il test critico sulla sicurezza di domenica impone scelte nette, il corso mascherato fino a via delle rimembranze. Il Corriere giustamente ricorda che 2000 persone sono rimaste bloccate agli ingressi, secondo la tradizione l'affluenza del pubblico aumenterà. E in effetti domenica sarà davvero la prova del fuoco e sarà una prova difficilissima. In prospettiva, inevitabile pensare di separare la sfilata dei cari allegorici dall'evento dei bambini. Queste sono le fotografie che fanno vedere, giustamente il Corriere Adriatico le pubblica questa mattina, perché fa vedere come potrebbe allungarsi il percorso. Quindi potrebbe continuare qui, qua c'è il pincio, qua c'è il pincio, va bene? Ecco, e questa invece è la rotatoria dove qua inizia il corso, dove qua inizia il corso Matteotti, va bene? La rotatoria di Porta Giulia, va bene? Si potrebbe fare questo allungamento. In tutto 18 mila persone, non sono mai state superate le 15 mila. Saverio Livi della Protezione Civile parla, snocciola i numeri che gli si sono presentati davanti, perché lui era nella stanza cosiddetta dei bottoni. Il sindaco chiede adesso però un incontro urgente in prefettura. La seconda pagina del Corriere Adriatico è sulle premiazioni, sono stati infatti premiati migliori cani e palchi mascherati, vincono Clark Kent con il suo superfido e il gruppo in mutande con il sorriso. Questa sera vi faremo vedere un altro servizio realizzato da uno dei nostri inviati nel corso mascherato, nel telegiornale di questa sera alle 20.30, proprio che si riferisce ai palchi e alle mascherate che sono state presentate. A Venezia sono rimasti fuori in 20 mila proteste per la gestione di domenica, l'attacco di Del Vecchio e di Santorelli. Adesso sono tutti a chiedersi che cosa accadrà domenica prossima, perché lo storico della seconda sfilata del Carnevale racconta che c'è sempre molta più gente che alla prima e quindi se la soglia dei 15 mila ingressi non dovesse essere ritoccata, il timore è davvero che con lo scoccare del getto si accalchino molti più dei 2000 costretti l'altro ieri ad aspettare per una mezz'ora il loro turno. Ma il problema è anche questo, che se qualcuno mi dicesse, guardate c'è un'attesa di 20 minuti, come si fa nei parchi giochi a Mirabilandia, Gardaland, di tutti i parchi giochi, io so che devo aspettare 20 minuti, mi metto l'anima in pace, ho due scelte, resto oppure vado, però so che cosa mi attende, so che dopo 20 minuti posso entrare. Il problema è che nessuno sapeva quanto avrebbe dovuto aspettare e quindi di fronte all'incognita del tempo, con dei bambini, con il freddo, con carrozzine e quant'altro, uno dopo 20 minuti se ne va. Poi è inutile dire dopo 20 minuti, 22 minuti sono entrati tutti, ho capito, però bisogna informare le persone che ci sono 20 minuti d'attesa, mezz'ora d'attesa, un'ora d'attesa, uno fa i suoi conti e poi decide l'informazione. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico. Scolmatori, l'opera entro aprile, tubi chiusi con uscite a pressione. Questa è un'opera che è stata presentata ieri, siamo nella zona di Sassonia 3, la cosiddetta zona di Gocarda, l'Incerca. Ecco, il Comune e l'Aset hanno presentato l'avanzamento di questi lavori, è un progetto davvero innovativo per le marche e sta andando avanti in maniera positiva. L'intervento consentirà di eliminare i divieti di balneazione in caso di abbondanti piogge che a volte accadono purtroppo anche in piena estate. E non è bello mettere un cartello di balneazione in una città balneare come la nostra. Morto all'improvviso a 19 anni, la cronaca dalla Valle del Cesano, la verità attesa dall'autopsia, oggi l'esame sulla Salma, la tragedia di Davide Cardinali che era a casa di un amico. Siamo a Dorciano, a Terre Roveresche, Stretto riservo dei carabinieri su quanto sequestrato nel luogo del decesso. Andiamo adesso invece sull'altra pagina di Pesaro del Corriere Adriatico. Il docente e la studentessa, la polizia sente i compagni, l'insegnante si è preso qualche giorno di pausa dalla scuola. Stiamo parlando di questa storia, storia cosiddetta luci rosse, tra un professore e una studentessa di 15 anni. A un certo punto questi messaggi che si sono scambiati, che si sarebbero appunto scambiati tra il professore e la ragazzina, sono finiti sui cellulari dei compagni. Lui ha mandato dei messaggi vocali pari inequivocabili e da questi cellulari poi praticamente tutti gli studenti di questa scuola pare avessero questi messaggi vocali un po' ambigui del professore sul telefonino. Chiaramente poi sono arrivati anche a qualche genitore. I genitori sono scorsi dal preside dell'istituto, il quale poi ha avviato le indagini, nel senso che ha informato chi doveva informare. Poi si parla questa mattina sui giornali, sui furti che sono avvenuti ancora nelle ore scorse nella città di Pesaro. E ancora andiamo avanti in carcere per furto. Questo è un altro furto che è avvenuto non nelle case ma lì per Rossini. In carcere per furto esce, però poi va a rubare di nuovo. Quindi appena qualche ora di libertà, era appena tornata di libertà, uno dei due taccheggiatori bloccati dai carabinieri. La tecnica più o meno è la stessa, vanno nei camerini, si mettono addosso tanti vestiti, si vestono a cipolla, e poi dopo escono tentando di farla franca. Ma spesso poi ormai gli agenti della sorveglianza sanno benissimo come funzionano queste cose, tengono gli occhi ben aperti. Il giudice convalida gli arresti, entrambi sono due rumeni di 24-25 anni, resteranno in prigione in quanto sono recidivi. Uno appunto, ripeto, era appena uscito. Restano gravi le condizioni del motociclista, l'uomo molto noto a Fossombrone, lo schianto è avvenuto lungo la Pechiese, stiamo parlando delle condizioni gravi di Michele Antonelli, di 47 anni, di Fossombrone, che è ricoverato in coma farmacologico nell'ospedale di Urbino. Era in sella la sua moto Augusta domenica pomeriggio, poco prima delle 16, in località Santubaldo, nel comune di Piobbico. Andiamo sulle pagine di peso del Corriere Adriatico. Hotel Lido è partito il cantiere, l'assessore delle Noci ringrazia la proprietà, rispettati i tempi dell'avvio dell'intervento, mentre dopo lo schianto a Pesaro ci sono state diverse famiglie, dove tra l'altro per fortuna sono lievi ferite per la conducente, che è stata portata all'ospedale, però è andata a finire contro probabilmente una centralina dell'acqua, esatto, di Marche Multiservizi, quindi l'urto ha provocato la rottura dell'impianto, molte case della zona sono rimaste per diverse ore senza corrente, siamo sulla panoramica dell'ardizio. Abbattuto l'ex cantiere navale, resta da demolire solo il muro di contenimento del vecchio scalo di Alaggio, cambia lo skyline del porto, la richiesta della Capitineria di effettuare un controllo sui residuati bellici riguarda l'arrivo del travel lift. Sotto all'asta beni per oltre un milione e mezzo, oggi scade il termine per presentare le offerte, domani c'è la gara pubblica. I beni comunali del Comune di Pesaro sono valutati intorno a 1.600.000 euro. Dalla Vallefoglia, Vallefoglia punta sui suoi gioielli, Monte Fabri e la collina di Colbordoro saranno raggiunti dal metano e allacciati al depuratore. Pronto pure un piano di asfaltature e più attenzione al turismo con l'installazione di alcuni binoccoli di quelli turistici che servono per vedere il paesaggio. Cacciatori invece nel mirino, nella pagina di Urbino del Corriere Adriatico, in quattro con licenze e veicoli irregolari. Uno di loro utilizzava un'auto priva di assicurazione, sanzioni salatissime e mezzi sequestrati. Furgone immatricolato come vettura commerciale, ma utilizzato invece per diletto. Adesso la pagina della Valle del Cesano, del Corriere, la cartellonistica, adesso cancella anche il toponimo degli ex comuni, la polemica sui social di Vampa a Dorciano, ridateci il nome del nostro municipio. E adesso invece andiamo sul resto del Carlino per vedere quali sono le notizie più importanti. Intanto il Carlino anche oggi torna sulla questione del lavoro, l'operaio perduto, le ditte cercano addetti alle macchine di controllo numerico, non li trovano. L'appello della General Tampering, senza, non possiamo crescere, senza operai, senza addetti alle macchine, la Regione scopre il problema e promette corsi di formazione. Uno studente in Guaia, il prof, è stato con un'altra allieva, il giovane avrebbe raccontato di averli sorpresi in effusione a scuola, sentiti anche altri ragazzi, ieri l'insegnante non si è presentato in classe, questo insegnante pesarese di 45 anni, insegna in una scuola di Riccione. La tragedia del 19enne a Orciano, troppi alcol e farmaci, il cocktail micidiale che ha ucciso Davide. E poi Stefano Accorsi a teatro, sul palco mi diverto con l'amore, su Twitter invece donne bersaglio, insulti al video della candidata, Lucia Annibali. Entriamo dentro, andiamo sulla pagina di Fano, perché la pagina di Fano parla in primo piano del carnevale, del pasticcio del carnevale, e intervista i due ex presidenti dell'ente carnevalesca, Luciano Cecchini e Gianfranco Mazzanti, che dicono, e che soprattutto sparano a zero, una follia, il numero chiuso, bastava allungare il percorso, ma soprattutto organizzarsi per tempo. Facevamo 13 mila ingressi quando si pagava il biglietto, allora mettiamo il contapersone anche al mercato. Seri corre ai ripari, così non va. Ho scritto al prefetto, il sindaco propone di allungare il percorso, ma dice Seri, non decido io. Andiamo adesso sull'altra pagina del resto del Carlino, la politica, insulti a Lucia Annibali, Matteo Renzi va da Barbara D'Urso, Lucia Parma è di sicuro la candidata più bella, una ragazza sfregiata dal suo ex proprio nella città dove si è curata. E poi la delusione di Camilla Fabri, che comunque accetta il trasferimento d'imperio dal Senato a Fano Senigallia, ho anche pensato, dice la Fabri, di fare una causa civile. Niente rinuncia, ero determinata a farlo, ma sarebbe stato tradire tante persone che mi stimano. la pagina di Fano, del Carlino, sulla tragedia di Orciano, addio Davide, nipote dolcissimo, il dolore di zia Alessandra, la sua seconda mamma. Domenica Davide si trovava in casa di un amico ad Orciano intorno alle 14 e si è sentito male. Dopo la separazione dei genitori, i tre figli erano stati dati in affido. E sotto invece la notizia sul sospetto, quel cocktail di alcol e farmaci che potrebbe aver ucciso appunto questo 19enne, oggi comunque l'autopsia, per capirne i motivi, la casa non è più sottoposta a sequestro. Cristina Tedeschini dice escludiamo violenze esterne come causa di morte, attendiamo l'esito dell'autopsia per conoscere i motivi appunto di questa tragedia. Poi si tindi protesta all'ospedale di Fossombrone, sempre dal Carlino, oggi è riunione, domani presidio contro la riforma sanitaria e poi oggi è stato operato il motociclista caduto Michele Antonelli appunto di Fossombrone è in coma farmacologico e poi da Apecchio aveva 82 anni è morto il cantante Pinuccio conosciuto davvero in paese si è spento all'ospedale di Perugia all'ottato di 82 anni Giuseppe Blasi meglio conosciuto appunto come Pinuccio amante della musica ha lietato una ventina di anni le feste del confartigianato appunto di Apecchio le ultimissime pagine un operaio siamo sempre a Terre Roveresche è caduto scaricando il camion è stato trasferito a Torrete è un 52enne di Barchi di Terre Roveresche Loris Zenobi sposato padre di due figlie poi sul tennis Mondavio fa il grande slam poi la Lega ha deciso Paolini tenta il bis alla Camera per Forza Italia all'ex sindaco Guzzi subentra invece la moglie Elisabetta Foschi l'ultima pagina della nostra rassegna stampa Giannotti da Urbino innovare l'università per salvarla appello dell'ex docente potenziare i settori dei brevetti e delle scienze umane ok questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa noi vi salutiamo noi della redazione vi salutiamo ci vediamo questa sera se avete delle segnalazioni da fare come sempre c'è il nostro numero 338 49 68 250 saluto tutti quelli che in qualche modo ci hanno seguito in questa diretta su Facebook e anche su Youtube e soprattutto i tanti telespettatori che ci guardano tutte le mattine con tanto affetto in televisione sul canale 17 di Fano TV ci vediamo stasera su tra che ci vediamo Autore dei sorrisi